E' arrivato il momento di svappare, svappo me! Ciao a tutti, sono Rosvena Morgillo, ho 26 anni e vengo da Montesarchio. Sono laureata in scienze biologiche e le mie passioni sono la moda, la fotografia e il canto. Ho iniziato a cantare sin da bambina e scoprendo a poco a poco che questa era la giusta passione da seguire, infatti attraverso il canto riesco ad esprimere le mie emozioni, i miei stati d'animo, quindi la gioia, la rabbia e i dispiaceri. Ho frequentato anche un'accademia musicale dove ho avuto l'opportunità di poter essere eseguita da diversi vocal coach, ho anche partecipato a diverse manifestazioni canore locali che mi hanno permesso comunque di raggiungere delle soddisfazioni personali. nell'ultimo periodo ho anche avuto l'opportunità di poter cantare e quindi farmi conoscere anche localmente attraverso e con delle band locali. C'è che c'è, c'è che prendo il treno che va a paradiso città, io mi renderò al mio posto e tu sei due sogni a mio fianco, mi dirai, destinazione paradiso, paradiso città. Credo che la Valle Caudina dia poco spazio alla musica e quindi soprattutto agli artisti locali, però allo stesso tempo credo che Arte di Mezzo sia appunto il giusto mezzo per poter diffondere l'arte degli artisti locali emergenti attraverso appunto la web tv, crescere e confrontarsi con gli altri artisti locali che condividono la mia stessa passione e non solo. Grazie.